Eccellenze calabresi, da mostrare, da visitare e da valorizzare. È l'obiettivo del Movimento per una Diamante Migliore, che lancia la candidatura della città dei Murales per ospitare il terzo giorno delle eccellenze calabresi. Dopo la prima edizione di Reggio Calabria e la seconda di La Mezzia Terme dello scorso anno, Diamante si candida per essere la protagonista della terza edizione e sarà votabile su internet fino a metà maggio. L'evento si svolgerà il prossimo autunno tra la fine di settembre e gli inizi di ottobre. Niente paura per i giovani del Movimento, che si mettono in gioco per realizzare i criteri di idoneità, per ospitare l'evento. Un gruppo che da solo un anno lavora insieme, ma che ha grandi ambizioni per il futuro. Vorremmo che Diamante, dicono loro, le sue tante preziose risorse umane, il suo patrimonio storico e culturale, respirassero il coraggio, la speranza, la voglia di riscatto per capire finalmente che si può uscire dalla stagnante rassegnazione a cui da troppo tempo una politica locale, per larghissima parte miope e troppo autoreferenziale, ci ha condannati. Grazie. 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 Grazie a tutti